Pippa Middleton è diventata mamma. La famiglia reale si è allargata fiocco azzurro per la sorella di Kate Middleton e James Matthews, ancora ignoto il nome Pippa Middleton è diventata mamma. La sorella di Kate, moglie del principe William, ha dato alla luce il suo primo bambino. A lanciare la notizia è la corrispondente del Daily Mail Rebecca English via Twitter. Il figlio nato dal matrimonio con James Matthews è nato ieri, a 1.58 del commeriggio nella Lindowink, alla privata dell'ST. Mary's Hospital di London, lo stesso dove anche la duchessa ha partorito i suoi tre figli. Rimane ancora ignoto il nome del bebe, che sarà annunciato solo nelle prossime ore. Ciò che è noto è che il bambino pesa circa 3.800 grammi. Rebecca English, nel suo tweet, ha così annunciato George, Charlotte e Louise hanno un nuovo cugino e ancora tutti sono felici e la mamma e il bambino stanno bene. Una bellissima notizia che arriva subito dopo l'annuncio della prima gravidanza per Meghan Markle ed il principe Harry. Punto Pippa Middleton, gli ultimi giorni prima del parto una notizia, quella del parto di Pippa Middleton, che ha anche stupito qualcuno. Basti, infatti, pensare che solo pochissimi giorni fa, in verde col suo bellissimo pancione di nove mesi, la sorella di Kate Middleton era presente al matrimonio di Eugenie e di York, senza manifestare alcuna stanchezza. Nelle ultime settimane prima dell'arrivo del bambino, Pippa ha parlato delle sue abitudini di fitness, e ha scritto nella sua colonna di eitrose mentre l'ultimo mese si avvicina e la pancia diventa sempre più grande ogni giorno, fare movimento è sicuramente molto più imbarazzante. Come risultato, uno dei più grandi cambiamenti è che la parte inferiore del mio corpo si è irrigidita l'effetto a catena si fa sentire lungo la schiena e l'osso sacro punto copyright riproduzione riservata.